Due coltellate, una al fegato, l'altra alla schiena, sferrate mentre il 37enne aggredito poco prima era steso a terra, con poche probabilità di difendersi. Un comportamento che è valso ai due ragazzi di Riccia, l'accusa di tentato omicidio in concorso e l'arresto in flagranza di reato. Tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando per una questione banale i due giovani del paese di 24 e 25 anni hanno cominciato a discutere con un uomo. I due, scoppiato il litigio, hanno prima trattenuto e poi cominciato a spintonare il 37enne. Ne è nata una colluttazione che ha richiamato anche l'attenzione dei presenti, pugni, calci e spintoni, fino a quando il giovane di 37 anni è caduto a terra. A quel punto uno dei due ragazzi ha estratto un coltello e ha affondato due colpi sul corpo dell'uomo, subito soccorso da alcuni passanti, mentre i due aggressori sono scappati. Nel frattempo un'ambulanza del 118 ha raggiunto il 37enne ferito e i soccorritori hanno deciso di trasportarlo al reparto chirurgia del Cardarelli. A Riccia sono invece arrivati anche i carabinieri di Gambatesa e Santeria Pianisi, i quali insieme ai militari del posto hanno subito ricostruito i fatti con l'aiuto dello stesso ferito che in ospedale aveva già riferito i particolari dell'aggressione. Poco dopo i due balordi sono stati rintracciati, uno a casa della nonna e l'altro al poliambulatorio del paese dove era andato a farsi medicare la mano ferita durante la rissa. Nelle loro case i carabinieri hanno anche trovato gli abiti sporchi di sangue che i due si erano cambiati e in una delle abitazioni una carabina d'aria compressa detenuta illegalmente. E alla fine delle ricerche sono riusciti anche a trovare il coltello gettato in un tombino la cui lama era ancora sporca di sangue. Aspettiamo di leggere il fascicolo e valuteremo, ha dichiarato l'avvocato Nicolino Cristofaro che difende il presunto accoltellatore. Il ragazzo per ora è ricoverato in ospedale assieme all'uomo che ha ferito. Quando lo hanno arrestato si è sentito male ed ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del Cardarelli. Il suo complice è in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.